Gentili telespettatori, buona giornata. Tagli alla sanità, le bugie della sinistra, la Meloni taglia, la Meloni taglia. Non c'è stato un taglio alla sanità, ve l'ho sempre detto, praticamente non sono stati messi soldi a sufficienza in più per coprire l'inflazione. Facciamo un conto semplicissimo, l'anno scorso c'erano 100, l'inflazione al 5%, io metto su 2 miliardi, 102, però l'inflazione al 5% si è mangiato, oltre i soldi che ho messo in più. Quindi non è vero che la Meloni ha tagliato, la Meloni non ha messo più soldi in maniera sufficiente per superare l'inflazione e quindi di fatto i soldi che ci sono oggi, che sono più euro di quelli dell'anno scorso, di fatto però valgono meno perché l'inflazione se l'è mangiata. Ci siamo a capire questo? Bene. Però tutte e due dicono, la Schlein dice hai tagliato e l'altra dice non ho tagliato. Quindi ha tagliato la Meloni? No. Ha messo meno soldi di quelli che si dovevano mettere per coprire l'inflazione. Perché ha messo meno soldi? Perché soldi ce n'è pochi e andavano distribuiti di qua e di là. E così la situazione della sanità peggiora. Già era messa male, le cose peggiorano. Ma la Meloni a questo punto è una cattivona e gli altri governi di prima invece stavano mettendo soldi sulla sanità. E direi proprio di no. Perché se parliamo nel 2014, nel 2014 erano messi sulla sanità 109, quasi 110 miliardi. Nel 2019 il fondo complessivo doveva essere di 125 miliardi ne sono stati messi appena 114. Quindi già con il governo Conte aveva fatto la stessa cosa che ha fatto Meloni. Doveva mettere 125, ha messo praticamente 9 miliardi in meno perché non c'erano soldi. Mancavano quasi 10-11 miliardi di euro. Sono stati tagliati. Nella manovra 2015-2016 è il midesimo modo di operare. Allora, per lo stesso motivo nel 2015 i tagli alla sanità sono stati di 2 miliardi 352 milioni. Nel 2016 uguale, tagli per 4 miliardi e 447 milioni. Nel 2017 il governo Gentiloni, sia gentile, sono stati tagliati 6 miliardi 338 milioni. Nel 2018 i giallo-verdi, quindi Grellini e Lega, hanno tagliato quasi 9 miliardi, 8 miliardi 954 milioni. Allora, poi andiamo avanti, andiamo avanti, 2010-2019. Dal 2010 al 2019 il Servizio Sanitario Nazionale ha perso 37,5 miliardi di euro. Ci sono stati tagli. Perché? La sanità che c'è in Italia non c'è dalle altre parti nel mondo. Se in Italia hai qualcosa, dovresti aver garantito tutti i tipi di cure possibili, immaginabili, tutti i tipi di operazioni possibili e immaginabili. Allora, vi faccio un esempio. Io in Italia per due volte ho fatto delle onde d'urto a destra e a sinistra sulla spalla perché mi si forma qua, mi si era formata una specie di calcificazione. Nessuno ha mai capito perché si formano queste calcificazioni qua. E c'era bisogno delle onde d'urto per disgregare questa cosa, poi l'organismo l'avrebbe poi riassorbita. Gratis. Vado a Novara ogni settimana per un certo numero di settimane, onde d'urto gratis, onde d'urto gratis perché poi mi è venuto anche dall'altra parte, a posto. Non ho pagato niente. Mi è capitato all'estero, mi si era riformata una calcificazione qua, il servizio sanitario pubblico non aveva i macchinari, sono dovuto andare in un ospedale privato. Solo da una parte ho dovuto vendere la macchina per fare delle onde d'urto qua, di una sola seduta. Immaginatevi se avessi dovuto fare ogni settimana, avrei dovuto vendere 10 macchine. Ho dovuto vendere la macchina per fare una sola seduta a questo, che in Italia è assolutamente gratis. Quindi il servizio sanitario italiano è assolutamente incomparabile. Poi se andate negli Stati Uniti e dovete fare questa roba qua, altro che vendere la macchina. Io ho visto gente negli Stati Uniti piangere, una signora che piangeva perché il dottore, il bambino che aveva la febbre alta, dove il dottore gli ha prescritto delle medicine. Questa signora è andata in farmacia, gli hanno chiesto mille dollari, mille dollari, praticamente 900 euro, per comprare le medicine per il figlio. È dovuta tornare a casa a dire al figlio, non me lo posso permettere di curarti, non aveva i soldi, mille euro per curare qualcosa che noi in Italia ti costa niente. Il servizio sanitario con il tempo ha cominciato a costare sempre di più. Popolazione è sempre più anziana, sempre più persone che hanno bisogno di cure, ovviamente, i costi sono saliti, nonostante la popolazione sia diminuita, i costi sono saliti e allora dove vai a prendere i soldi quando devi fare delle promesse elettorali? Quando devi abbassare il cuneo fiscale, che ti costa 10 miliardi, li vai a prendere sulla sanità. Quindi quest'anno cos'è successo? Per confermare il taglio del cuneo fiscale, 10 miliardi, quei 10 miliardi non si sono messi sulla sanità. Se si fossero messi sulla sanità, la sanità avrebbe ricominciato non solo a coprire l'inflazione, avrebbe ricominciato a rimettere soldi su, visto che dal 2010 al 2019 tutti i governi di centrosinistra hanno tagliato la bellezza di quasi 40 miliardi. La Meloni ha fatto la stessa cosa che hanno fatto i governi di sinistra. Ha preso i soldi che andavano sulla sanità e li ha messi per fare le promesse elettorali. Il taglio del cuneo fiscale è costato una bella cifra. Che faccio? Metto i soldi sulla sanità che non se ne accorge nessuno o faccio il taglio del cuneo fiscale, promessa elettorale, elezioni europee, confermo il taglio del cuneo fiscale e la sanità quando voi andate lì oggi non trovate neanche i medici al pronto soccorso. Tutti i governi negli ultimi 15 anni hanno fatto esattamente la stessa cosa. hanno preso i soldi che andavano sulla sanità per fare le promesse elettorali. Chiaro? È chiaro sto fatto? Bene, andiamo avanti. Arrivederci a tutti.